questo video dedicato all'osso tessuto connettivo di sostegno per eccellenza nella mia personale esperienza è forse il capitolo più complesso ma anche più affascinante dell'istologia generale l'osso ha una peculiare connotazione sul piano culturale da tempo immemorabile provoca inquietudine e immancabilmente associato all'idea di perdita della vita eppure quando si studia per la prima volta l'organizzazione microscopica dell'osso si apre un mondo sorprendente si scopre che l'osso quasi a dispetto della sua durezza e della resistenza nel tempo alla decomposizione è un tessuto molto più plastico e vitale di tanti altri capace di modificarsi non solo durante lo sviluppo ma per l'intero alco della vita ora tenendo ben presente questa premessa iniziamo ad affrontare il tema a partire da una breve introduzione che a rigore sarebbe di pertinenza dell'anatomia più che dell'istologia ma è un passaggio indispensabile dunque in quanto oggetti solidi le ossa del nostro corpo possono essere enumerate descritte individualmente classificate hanno morfologie molto diverse tra loro alcune davvero difficili da descrivere come questo particolare osso incubo per generazioni di studenti di medicina per nostra fortuna questo in questo contesto ci limiteremo alla descrizione di certe caratteristiche di base che sono sostanzialmente condivise tra tutte le ossa anzi per semplificare le cose si tende tradizionalmente a usare come riferimento per descrizioni e ragionamenti in ambito istologico un tipico osso lungo meglio se appartenente all'arte inferiore come questa tibia per esempio questa è una utile convenzione basata su motivi che cercherò di chiarire man mano che procediamo comunque in un osso lungo si distingue una porzione allungata che appunto si chiama diafisi e due estremità che si articolano con altre ossa dette epifisi qualche volta l'osso si articola con una sola estremità guardiamo però un altro osso questa è la porzione prossimale di un femore sezionato sul piano frontale e dopo la rimozione dei tessuti molli che normalmente sono contenuti al suo interno queste immagini ci consenti di apprezzare alcuni importanti dettagli innanzitutto questa porzione di osso di aspetto compatto che è detta corticale la corticale presente lungo tutta la superficie esterna dell'osso ma è particolarmente spessa in corrispondenza della diafisi se rivolgiamo lo sguardo all'interno dell'osso notiamo un'ampia cavità priva di osso a livello diafisario su cui tornerò tra poco mentre le epifisi sono occupate dal cosiddetto osso spugnoso o trabecolare guardiamo un preparato anatomico simile a distanza più ravvicinata allo scopo di mettere meglio in evidenza queste due forme di osso è ben visibile qui la spessa corticale di osso compatto che si assomiglia bruscamente nel passaggio alla regione epifisaria però non scompare del tutto il termine compatto ci consente di distinguere questa varietà di tessuto rispetto all'osso spugnoso o trabecolare quello posto internamente come vedete nell'osso spugnoso sono scavate una miriade di piccole cavità intercomunicanti che sono ben osservabili in questo dettaglio ingrandito le pareti di queste cavità sono appunto le trabecole o spiccole questo preparato si presta bene a una osservazione oserei dire filosofica perché se guardiamo le trabecole in questo riquadro ingrandito la loro disposizione ci appare relativamente disordinata ma se allarghiamo lo sguardo e osserviamo la foresta nel suo insieme emerge un disegno tutt'altro che casuale le trabecole sono in realtà disposte lungo le linee di maggiore carico meccanico di maggiore sollecitazione meccanica quindi a parità di volume l'osso spugnoso è in assoluto meno resistente rispetto a quello compatto ma è più leggero e grazie al loro preciso orientamento le trabecole sono in grado di distribuire le forze che gravano sull'articolazione scaricandole sulle robuste corticali di osso compatto attenzione questo disegno è il prodotto di un minuzioso e continuo aggiustamento morfologico è uno dei temi importanti di questo capitolo dell'istologia e cercherò di riprenderlo più avanti ecco un'altra immagine di osso trabecolare circondato da una corticale compatta e infine un dettaglio che mostra in modo molto suggestivo la presenza di questo sistema di cavità intercomunicanti delimitate dalle trabecole le cavità in vivo sono riempite da uno speciale tessuto connettivale che è la sede di proliferazione e differenziamento delle cellule ematiche questo tessuto è detto midollo emopoietico qui visibile in un preparato fresco osservate nuovamente la corticale di osso compatto e l'osso spugnoso che accoglie il midollo rosso per inciso anche se su ossa diverse da quella mostrata nell'immagine è in questo contesto che avviene il prelievo di midollo emopoietico fini diagnostici o attraverso il cosiddetto ago aspirato che raccoglie materiale semifluido oppure attraverso una vera biopsia che preleva un cilindretto di tessuto contenente sia osso che midollo questa seconda procedura è più invasiva però consente uno studio istologico più accurato proprio al centro del preparato è anche visibile una certa quota di midollo di aspetto diverso dominato da tessuto adiposo e questo è il midollo giallo nel tempo il midollo giallo tende a sostituire progressivamente il midollo rosso ed è particolarmente abbondante in certe sedi come vedremo tra un attimo allora riassumendo questi schemi mettono in rilievo la corticale di osso compatto particolarmente spessa a livello diafisario un ampio canale diafisario privo di osso la cosiddetta cavità midollare e infine una certa quota di osso trebecolare nelle epifisi come già detto l'osso spugnoso è la sede del midollo emopoietico mentre il canale diafisario è quasi interamente occupato dal midollo giallo questo schema offre un ulteriore dettaglio perché suggerisce la presenza di un involucro connettivale che avvolge esternamente l'osso e che svolge diversi importanti funzioni su cui tornerò più avanti questo è il periostio la presenza di questa ampia cavità centrale che detto brutalmente è piena di grasso ci dà un po da pensare ci si può interrogare sul motivo di tale morfologia immaginando una situazione diversa perché l'osso non è pieno specialmente a livello della diafisi dove questo spazio è apparentemente sprecato innanzitutto bisogna tenere presente che l'osso è un tessuto decisamente pesante per cui aggiungere a un tipico corpo umano una significativa quantità di osso comporterebbe la necessità di potenziare muscoli apparato cardiovascolare la scelta quindi è tra le due situazioni presentati in questo schema a destra è raffigurato lo spessore di una corticale in relazione al diametro della diafisi di un osso vero a sinistra invece vedete un ipotetico osso di peso identico ma privo di cavità ora il motivo per cui nel corso dell'evoluzione ha decisamente prevalso la prima soluzione è di carattere meccanico è lo stesso motivo per cui il telaio di tutte le biciclette è tubolare cioè vuoto all'interno per motivi che sono abbastanza intuitivi ma che io non sono in grado di tradurre in termini matematici a parità di peso il diametro maggiore rende la struttura più robusta più resistente alle torsioni e ad altre sollecitazioni meccaniche insomma ecco perché le nostre ossa lunghe sono bucate dopo questo cenno iniziale sull'organizzazione morfologica delle ossa basata sull'osservazione macroscopica a occhio nudo iniziamo ora inquadrare il tessuto in termini più propriamente istologici a partire dal suo inquadramento come tessuto di origine mesenchimale che si sviluppa cioè a partire da un tessuto embrionale come questo che vedete l'osso appartiene quindi all'ampia famiglia dei connettivi in senso lato l'istogenesi dell'osso cioè l'insieme dei meccanismi che portano da questo stadio primordiale a questa opera completa sarà oggetto di una breve descrizione più avanti mentre per il momento ci concentriamo sulle caratteristiche dell'osso maturo al termine dello sviluppo quindi facciamo un grande salto in avanti in quanto connettivo in senso lato l'osso è naturalmente formato da cellule separate però tra loro da una abbondante matrice extracellulare non dimentichiamoci che questo schema di base è condiviso con gli altri connettivi e che le caratteristiche distintive di ciascuno vanno principalmente cercate nella composizione e nella organizzazione proprio della matrice e allora diamo subito un'occhiata alla composizione della matrice ossea due componenti fanno la fanno da padrone sono protagoniste principali prima vi faccio vedere il collagene che qui è visibile sotto forma di fibrille prevalentemente parallele tra di loro il collagene che per inciso è di tipo 1 è di gran lunga la componente organica principale dell'osso ho detto componente organica perché come certamente sapete la vera caratteristica distintiva del tessuto osseo è la componente inorganica della matrice extracellulare che è essenzialmente costituita da un che si chiama idrossiapatite idrossiapatite a sua volta composta da gruppi fosfato che qui vedete rappresentati in arancione rosso intervallati da atomi di calcio che qui sono in grigio questa struttura molecolare tende a cristallizzare ed è primariamente responsabile della durezza dell'osso ora l'importanza della contemporanea presenza di queste due componenti può essere messa in evidenza con una classica antica esperienza di laboratorio per esempio è possibile sottoporre l'osso a un trattamento chimico che tende a dissolvere la componente minerale della matrice e il risultato di questa operazione è un osso che ha perso di durezza diventa deformabile gommoso ma resta tenace molto difficile da rompere per converso immergendo l'osso in una soluzione contenente enzimi protolitici in grado di digerire le fibrille di collagene si ottiene una struttura dura ma relativamente fragile come dettaglio conclusivo di questa breve analisi quantitativa ecco la proporzione in peso delle principali componenti dell'osso come vedete la frazione inorganica è pari a circa i due terzi del totale e le componenti organiche diverse dalla collagene sono molto scarse rimando comunque libri di testo per ulteriori dettagli dal punto di vista quantitativo ora siamo finalmente pronti per guardare l'osso al microscopio come già preannunciato la descrizione iniziale è limitata all'aspetto dell'osso che ha completato il suo sviluppo ed è quindi definito maturo per intendersi questo è il tipo di osso che potremmo osservare nelle nostre ossa di individui adulti in assenza di processi patologici in un secondo tempo tornerò indietro farò un passo indietro per ricostruire il processo di sviluppo l'istologia dell'osso è molto variegata e anche elegante si avvale di diverse tecniche di preparazione e visualizzazione dei campioni che tendono a fornire informazioni complementari tra loro e questa complementarietà è indispensabile per cogliere il quadro d'insieme quindi vi farò vedere immagini preparati in modi diversi la prima che vi presento mostra una sezione di tessuto di osso compatto colorata con la tradizionale tecnica della ematossiline osina l'impatto iniziale forse non è di più spettacolari ma d'altra parte teniamo presente che per ottenere questa immagine è stato necessario sottoporre il campione di tessuto a un processo di decalcificazione perché sarebbe altrimenti stato impossibile ottenere al microtomo sezioni di spessore sufficientemente sottile l'immagine è dominata da una forte diffusa eosinofilia e naturalmente responsabile di tale colorazione è il collagene in sede extracellulare e le cellule dell'osso dove sono allora a questo ingrandimento relativamente basso sono appena visibili qui qui e qui ma questo discorso lo riprenderemo più avanti cerchiamo invece di capire meglio come è fatta la matrice a questo ingrandimento un pochino enfatizzando la saturazione del contrasto e dell'immagine per via digitale si vedono importanti differenze rispetto ad altri connettivi questa matrice non è amorfa come quelle della cartilagine ialina né fibrosa o magari reticolare come quella del connettivo propriamente detto la matrice appare invece organizzata in strati paralleli definiti unicamente da lievi ma regolari variazioni nella densità della colorazione con eosina questi strati che hanno uno spessore di pochi micron sono detti lamelle ed è bene precisare fin da subito che in condizioni fisiologiche tutto l'osso maturo è lamellare ora questa immagine rappresenta osso compatto ma a scanso di equivoci vi faccio vedere anche un preparato decalcificato e colorato con ematossiline e osina di un dettaglio di osso spugnoso questa è una singola trabecola e osservate come sia a sua volta formata da numerose lamelle parallele tra di loro attenzione la confusione tra i termini trabecola e lamella è sempre dietro l'angolo ma mentre le trabecole sono anche visibili a occhio nudo come abbiamo visto in precedenza le lamelle sono apprezzabili solo al microscopio a forte ingrandimento quindi per carità attenzione a questo punto si tratta di comprendere la natura di queste lamelle cioè a cosa si deve il peculiare aspetto istologico della matrice ossea in particolare perché un sottile strato di osso è sia pure vagamente distinguibile rispetto a quella adiacente per questo ci viene in aiuto una particolare tecnica di microscopia che sfrutta una proprietà della luce polarizzata per motivi fisici che non so ben spiegare la luce polarizzata viene modificata in modo differente a seconda dell'orientamento prevalente delle molecole colpite dalla luce stessa in questo preparato le strie colorate corrispondono alle singole lamelle quindi viene enfatizzato questo motivo e l'alternanza tra i due colori cioè ciano e magenta rivela che l'orientamento delle componenti molecolari della matrice di una lamella è diverso rispetto a quello della lamella adiacente questa allora è una rappresentazione schematica dell'organizzazione dell'osso maturo una lamella è formata da fibrille di collagene parallele tra loro qui rappresentati in rosso e intercalate a cristalli aghiformi di idrossiapatite in bianco che seguono l'andamento del collagene in un certo senso quindi la singola lamella può essere considerata un esempio di connettivo naturalmente in senso lato di tipo regolare ma l'aspetto cruciale la caratteristica fondamentale dell'osso maturo è che la lamella adiacente ha una organizzazione identica ma con un orientamento diverso delle sue componenti e questa alternanza di orientamento delle principali componenti costitutive dell'osso ha un impatto determinante sulla robustezza del tessuto un paragone efficace può essere quello del compensato che è un tipo di lavorazione del legno in cui più strati o meglio lamelle ciascuna caratterizzati da un particolare orientamento delle fibre vengono sovrapposte e poi incollate e questa organizzazione rende la tavola in grado di sopportare sollecitazioni meccaniche notevoli rispetto alla quantità di legno che viene utilizzato una volta afferrato il concetto di lamella ossea possiamo tornare a osservare un preparato istologico un campione di osso compatto decalcificato e colorato con ematossidi di neosina basta un'occhiata rapida per rendersi conto che gruppi di lamelle disegnano forme particolari la forma più caratteristica è ben visibile in questa immagine come vedete le lamelle sono spesso organizzate in strati concentrici intorno a un canale centrale che qui appare completamente vuoto questo spazio ha un nome e si chiama canale di havers e l'insieme delle lamelle che circondano il canale si chiama osteone la forma tridimensionale dell'osteone può essere ricostruita per esempio analizzando sezioni istologiche seriate parallele tra di loro e ravvicinate e da ciò si deduce che l'osteone è una struttura cilindrica in realtà arrotondata all'estremità gli osteoni sono particolarmente numerosi e ben organizzati lungo la diafisi delle ossa lunghe dove presentano un orientamento caratteristico ovvero parallelo all'asse della diafisi stessa ricordando anche la particolare organizzazione della matrice che costituisce le singole lamelle è evidente che la forma e l'orientamento dell'osteone hanno un preciso significato strutturale cioè contribuiscono a irrobustire l'osso lungo lungo la direzione soggetta maggiori sollecitazioni in questo schema come nell'immagine istologica precedente il canale di avers appare vuoto ma questo è il risultato della preparazione istologica in vivo ovviamente il canale di avers non è vuoto ma è occupato da un connettivo lasso vascularizzato e innervato con un certo numero di cellule di origini mesenchimali su cui torneremo più avanti non è difficile comprendere la difficoltà a ottenere una sezione istologica come questa data la durezza dell'osso anche se decalcificato rispetto alla lassità del tessuto contenuto nel canale in questo dettaglio di un piccolo canale di aversa microscopio elettronico a trasmissione è visibile un vaso ematico di dimensioni ridotte questo è il nucleo di una cellula endoteliale insieme a una modesta quantità di matrice extracellulare in cui sono osservabili alcune alcune cellule gli osteoni però non occupano per intero l'osso compatto e vedete che tra un osteone e l'altro sono facilmente individuabili gruppi di lamelle di forma meno regolare apparentemente incuneati tra osteoni ben formati anche queste strutture hanno un nome sono dette lamelle interstiziali non è finita perché un ulteriore sistema di lamellare si osserva lungo le superfici dell'interosso qui vedete per esempio la sezione trasversale della diafisi del solito osso lungo ma se osserviamo la matrice a distanza ravvicinata vediamo un certo numero di lamelle parallele alla superficie della corticale che si estendono per l'intera circonferenza queste lamelle sono dette circonferenziali esterne e ad esse vanno aggiunte le lamelle circonferenziali interne che sono identificabili lungo questo tipo di cavità midollare sono comunque meno definite e meno regolari rispetto a quelle esterne torniamo agli osteoni e ai canali vascolari che si trovano al loro centro perché c'è una cosa importante da aggiungere schematizzando l'osteone ho parlato di un cilindro smusso percorso longitudinalmente dal canale di havers ma il problema è come fanno i vasi sanguigni e anche le fibre nervose ad arrivare al canale centrale data la presenza di osso tutto intorno la spiegazione risiede in un sistema di canali approssimativamente perpendicolari ai sistemi avversiani agli osteoni questi canali che sono detti di folkmann hanno un contenuto simile a quello dei canali centrali e creano come suggerito dallo schema una rete tridimensionale in grado di raggiungere tutte le parti dell'osso qui sotto vedete un bel esempio di un canale di folkmann in una sezione trasversale di osso compatto questo per quanto riguarda la comunicazione all'interno dell'osso le comunicazioni con il resto del corpo avvengono grazie a speciali canali trasversali detti canali perforanti che a partire dal periostio raggiungono gli osteoni più prossimi alla superficie dell'osso attraverso canali perforanti vasi e nervi possono effettivamente entrare nell'osso qui dietro di me vedete un preparato secco di osso e a destra una suggestiva ricostruzione tridimensionale di entrambi i tipi di canale sia quelli longitudinali che quelli trasversali gli osteoni che abbiamo visto finora erano localizzati nell'osso compatto però è legittimo chiedersi se queste formazioni siano presenti anche nelle trabecole osse e allora al centro dell'immagine c'è una porzione di osso spugnoso e se ci avviciniamo possiamo osservare una formazione che senza dubbio appartiene un osteone d'altra parte data la forma allungata degli osteoni e la morfologia molto irregolare delle trabecole è facile intuire che difficilmente questo osteone effettivamente completo si tratta probabilmente di un pezzo di un osteone questa osservazione alimenta una curiosità che dovrebbe essere già sorta cos'è un osteone cos'è realmente come si forma e che significato ha il termine pezzo di osteone sono quesiti a cui cercherò di rispondere più avanti pian piano ci arriviamo questo schema riassume molte delle cose dette fino a questo punto procedo lentamente per darvi il tempo di identificare tutte le diverse strutture elencate in questo spaccato è presente sia osso compatto appartenente a una spessa corticale che osso trabecolare l'osso compatto è costituito da osteoni qui su visti in sezione trasversale e qui sotto invece mostrati per lungo con le lamelle concentriche in bella vista tra gli osteoni sono poi visibili gruppi di lamelle interstiziali sono anche presenti lamelle circonferenziali sia esterne che interne quest'ultime affacciate sul canale midollare a sinistra sono rappresentati alcuni canali di Havers e di Folkman e notate come tra questi ultimi i più prossimi alla superficie dell'osso comunicano con la rete vascolare presente nel connettivo del periostio questi sono i canali perforanti è infine mostrato un dettaglio lacune e canalicoli che in realtà spalanca un'altra porta perché questo è il prossimo tema da trattare io vi avevo già brevemente mostrato le cellule dell'osso appena visibili come in questo preparato ora affrontiamo il tema più direttamente da vicino per prima cosa spingendo il più possibile l'ingrandimento si ottiene questa immagine che purtroppo continua a essere piuttosto poco attraente le cellule sono piccole guardate la barra di scala sono appena visibili all'interno di spazi non occupati da matrice ossea questi spazi sono evidentemente le lacune ossee degli osteociti qui è visibile solo il nucleo perché il citoplasma è scarso e pallido ora quindi per apprezzare adeguatamente gli osteociti è necessario passare dalla microscopia ottica alla microscopia elettronica qui vedete un singolo osteocita accolto nella lacuna ossea circondata a sua volta da materiale elettrondenso che rappresenta matrice ossea mineralizzata l'osteocita è una cellula relativamente quiescente con un metabolismo basso le dimensioni complessive sono ridotte potrebbe essere un 10 micron come misura tipica il citoplasma è scarso come si deduce dal fatto che il nucleo qui occupa la maggior parte del profilo della cellula attenzione però perché pur intrappolato nella sua cella l'osteocita è una cellula vive vegeta che svolge anzi importanti ruoli fisiologici ma in che senso cella beh il fatto è che la matrice ossea mineralizzata è estremamente compatta quindi sostanzialmente impenetrabile a teleproposito se ricordate l'organizzazione della cartilagine anche lì le cellule sono intrappolate all'interno di lacune e quindi circondate da una matrice solida tuttavia la matrice cartilaginea contiene una significativa quantità di sostanza morfa idratata che consente la diffusione di nutrienti di segnali molecolari di prodotti del metabolismo al contrario la matrice ossea è impermeabile non consente questo tipo di diffusione l'indizio per la soluzione di questo problema è visibile già ai margini di questa microfotografia vedete che la lacuna sembra estendersi nelle direzioni indicate dalle frecce e se estendiamo il campo di osservazione vediamo che da queste aperture hanno origine dei veri e propri canalicoli e che in questi canalicoli inoltre si insinuano dei prolungamenti citoplasmatici emessi dagli osteociti le immagini dei prolungamenti non sono facili da ottenere data l'estrema delicatezza di tali strutture rispetto alla durezza del materiale circostante ma oggi ne diamo per scontato che la vera forma degli osteociti sia paragonabile a questa un piccolo corpo cellulare dotato di numerosi prolungamenti che si addentrano in ciascuno dei canalicoli che si aprono nella lacuna quindi queste celle apparentemente di massima sicurezza hanno in realtà tunnel segreti scavati nella roccia circostante e il quesito successivo naturalmente è dove arrivano i canalicoli dove sboccano per rispondere al quesito torniamo a un preparato per la microscopia ottica ma molto diverso rispetto alla tradizionale colorazione istologica come la ematossilinosina si tratta del preparato per erosione che in un certo senso mostra informazioni complementari a ciò che abbiamo visto finora in estrema sintesi da un campione di osso non decalcificato si ricava grazie a una speciale sega una fetta di tessuto sottile per quanto possibile ma sufficientemente spessa da prevenirne la rottura la frammentazione questa fetta stesa su un supporto viene progressivamente levigata in modo da ridurne al massimo lo spessore durante il trattamento i tessuti molli dei canali sono asportati e anche le cellule accolte nelle lacune sono essenzialmente rimosse dalla loro sede a questo punto si stende sul preparato un sottile velo di inchiostro o uno speciale balsamo che riempie le lacune e i canalicoli rendendoli così ben visibili al microscopio qui troviamo l'ormai familiare osteone il sistema versiano e scorgiamo anche un canale trasversale di folkman che unisce i canali centrali di due osteoni adiacenti a maggior ingrandimento ecco svelato il segreto le immagini scure rappresentano le lacune ossee cioè la sede che in origine ospitava l'osteocita le lacune sono collegate tra loro tramite una rete di sottinissimi canalicoli ossei e infine le reti di canalicoli convergono e sboccano nei canali centrali dove come ricorderete è presente connettivo pascolarizzato ecco quindi spiegata la capacità di sopravvivenza degli osteociti possono essere nutriti grazie alla diffusione che avviene lungo la rete canalicolare prima di chiudere vi mostro due belle immagini ostenute col microscopio elettronico a scansione questa volta qui vedete un osteone sezionato trasversalmente con le sue lamelle il canale centrale e un certo numero di minuscole cavità scavate nell'osso compatto le lacune ossee a maggior ingrandimento qualche volta è addirittura possibile catturare l'osteocita all'interno della sua lacuna si è discusso a lungo sulla effettiva estensione di questi prolungamenti all'interno dei canalicoli accendavo poco fa all'estrema difficoltà a preservare queste delicate estensioni citoplasmatiche durante la preparazione del campione i canalicoli appaiono spessissimo vuoti ma l'ipotesi è che in vivo siano interamente percorsi dai prolungamenti degli osteociti anzi sembra proprio che gli osteociti mantengano contatti diretti tra loro alle estremità dei prolungamenti tramite giunzioni intercellulari anche di tipo comunicante anzi a questi contatti viene oggi attribuito un importante ruolo di coordinamento nella fisiologia dell'osso chiudo questa parte proponendovi un altro schema penso che sia sempre utile mettere a confronto non solo più immagini istologiche ma anche più rappresentazioni schematiche o artistiche delle strutture di interesse perché questo aiuta a concettualizzare o a generalizzare le informazioni presentate qui per esempio oltre agli elementi già presenti nello schema che avete già visto poco fa le cellule sono rappresentate in modo un po più chiaro insieme alle lacune e canalicoli come avevo preannunciato tutta la prima parte della lezione era dedicata alla descrizione dell'osso maturo al termine dei lunghi processi di sviluppo che iniziano durante le prime settimane di sviluppo embrionale e che per certi aspetti proseguono per molti anni dopo la nascita ma è impossibile comprendere davvero come è fatto l'osso senza un accenno ai meccanismi di formazione di questo tessuto il tema è molto complesso e questa presentazione è estremamente semplificata l'attenzione sarà focalizzata su alcuni indispensabili elementi di base dei blocchi proprio elementari iniziamo ovviamente dal primo dedicato al ruolo delle cellule dell'osso nella formazione della matrice ossea un processo detto anche deposizione di osso ma attenzione una delle peculiarità di questo tessuto che lo distingue rispetto a tutti gli altri e che necessita anche di un meccanismo di distruzione della matrice un fenomeno detto riassorbimento dell'osso iniziamo dalla deposizione la produzione di matrice ossea è responsabilità degli osteoblasti che sono queste cellule chiaramente in intensa attività biosintetica cosa che mi consente di affermare chiaramente in attività ci sono tre quattro caratteristiche inconfondibili il citoplasma è abbondante intensamente basofilo il nucleo è chiaro e ha un nucleolo ben rappresentato questi tratti definiscono il quadro di insieme il nucleo eucromatico e il nucleolo suggeriscono una elevata attività trascrizionale mentre la basofilia nell'ampio citoplasma dovuta alla presenza di numerosissimi ribosomi particolarmente legati al reticolo endoplasmatico indica un'intensa attività traduzionale legata al comparto membranoso la matrice ossea già deposta dagli osteoblasti in questa microfotografia è visibile qui grazie alla eosineofilia del collagene questo è osso neoformato una conferma di queste osservazioni la otteniamo esaminando gli osteoblasti al microscopio elettronico a trasmissione come in questa bella immagine questo materiale elettrondenso corrisponde alla matrice già mineralizzata ma la gran parte della microfotografia è occupata da 3-4 tipici osteoblasti notate anche qui il nucleo grande eucromatico con un bel nucleolo e poi un ampio citoplasma con reticolo endoplasmatico abbondante in cui spiccano cisterne particolarmente voluminose ora concentriamo l'attenzione sullo spazio immediatamente circostante le cellule qui sono appena visibili fibrille di collagene evidentemente secrete di recente dagli osteoblasti anche se qui non visibili dobbiamo immaginare che insieme al collagene vengono secreti enzimi glicoproteine e altre componenti della matrice che in questa fase è evidentemente fluida la matrice ossea appena rilasciata dagli osteoblasti ha un nome specifico si chiama osteoide tornerò più avanti su questa immagine ma per il momento torniamo a osservare il modo in cui gli osteoblasti sono disposti in prossimità dell'osso già formato nei preparati di emotossiline osina l'osteoide può essere visibile per via della colorazione più pallida come in questo caso questa matrice appena prodotta va incontro a mineralizzazione come si coglie tornando al microscopio elettronico queste immagini elettrondense rappresentano depositi minerali che progressivamente invadono l'impalcatura proteica costituita dal collagene ben presto questa matrice assomiglierà a questa quindi non sarà più osteoide ma sarà osso in questo preparato la matrice ossea è evidenziata in turchese la tecnica è diversa mentre le cellule sono in rosso e se osservate gli osteoblasti allineati in un singolo strato lungo la superficie dell'osso in via di formazione vi accorgete che hanno una disposizione particolare molto regolare che ricordo un po quella degli epiteli di rivestimento come nell'esempio che vedete qui sotto tanto che gli osteoblasti sono spesso definiti cellule epitelioidi non è facile ottenere buone immagini istologiche di queste cellule ma siamo in grado di ricostruire la loro effettiva morfologia in vivo ecco un vecchio ma efficace disegno di alcuni osteoblasti che guardiamolo in dettaglio allora in basso c'è la matrice mineralizzata osso neoformato in superficie uno straterello di matrice appena secreta l'osteoide su cui poggiano gli osteoblasti l'aggettivo epitelioide descrive bene queste cellule anche perché si osserva una spiccata polarizzazione funzionale con nucleo posto a distanza dalla superficie dell'osso evidentemente per lasciare spazio al golgi e alle vescicole di secrezione che devono essere rilasciate verso l'osso non basta notate anche che gli osteoblasti come le cellule epiteliali sono ancorati tra loro tramite complessi di giunzione che includono giunzioni comunicanti questa caratteristica disposizione delle cellule rivela un fatto fondamentale sui meccanismi di ossificazione gli osteoblasti si osservano quasi sempre a diretto contatto con una superficie mineralizzata preesistente e la deposizione di nuovo osso avviene sempre per apposizione vi ricordo che la cartilagine invece cresce anche per via interstiziale grazie alla maggiore plasticità della matrice extracellulare ma se gli osteoblasti man mano che secerno matrice rimangono in superficie come se galleggiassero allora dove sono le cellule dell'osso di cui abbiamo parlato prima quelle che si vedono dentro l'osso insomma dove sono gli osteociti eccone uno ed eccone anche un altro il fatto è che ogni tanto un osteoblasto rallenta il ritmo di produzione della matrice si separa dallo strato epitelioide e rimane sommerso nell'osteoide con la mineralizzazione di quest'ultima l'osteoblasto cessa le sue attività biosintetiche si riduce di dimensioni riduce il metabolismo e rimane definitivamente intrappolato nella sua lacuna aggiungo che gli osteoblasti persi lungo il percorso sono regolarmente rimpiazzati grazie al reclutamento di cellule mesenchimali che intraprendono la strada del differenziamento in pre osteoblasti e successivamente in osteoblasti attivi allora riassumendo qui vedete raffigurati un certo numero di osteoblasti in prossimità di una porzione di osso come già accennato le cellule sono disposte in modo relativamente regolare in singolo strato sono luminose un po appiattite verso la superficie dell'osso più globose sul versante opposto all'interno c'è una chiara simmetria la porzione di cellula rivolta verso l'osso è evidentemente destinata alla secrezione per semplicità qui non sono raffigurati gli altri importanti organelli in particolare il reticolo golgi ben sviluppati mentre il nucleo al contempo si fa da una parte e si impone in modo da non intralciare la catena di montaggio delle componenti della matrice notate anche i brevi prolungamenti citoplasmatici che creano contatti diretti tra le cellule dove sono state dimostrate gap junctions questo osteoblasto appare parzialmente immerso nella matrice ossea probabilmente perché la sua attività di secrezione si era ridotta rispetto alle cellule radiacenti la matrice prodotta dagli osteoblasti circostanti tende a sommergere il nostro che rimane così progressivamente intrappolato attenzione a non farsi sfuggire un dettaglio cruciale nonostante l'inevitabile allontanamento fisico tra questo osteoblasto e quelli circostanti i contatti intercellulari sono mantenuti grazie al progressivo allungamento dei processi citoplasmatici se ora ci spostiamo all'interno dell'osso già mineralizzato ritroviamo la lacuna in comunicazione con un certo numero di canalicoli e naturalmente il corrispondente osteocita con i prolungamenti citoplasmatici che si addentrano nei canalicoli stessi in conclusione osteoblasto e osteocita sono in realtà la stessa cellula ma in diversi momenti del suo ciclo vitale l'osteoblasto è la cellula che si osserva in superficie ed è attivamente impegnata nella costruzione di osso mentre chiamiamo osteocita la cellula imprigionata nell'osso in stato di quiescenza un altro dettaglio istologico che può essere finalmente spiegato è il canalicolo osseo al quesito come si formano i canalicoli ora possiamo rispondere che in senso stretto i canalicoli non sono costruiti sono piuttosto dovuti alla persistenza dei prolungamenti citoplasmatici che collegano le cellule tra loro e che impediscono la formazione di osso lì dove si trovano loro stessi ok allora qui si conclude la descrizione delle cellule impegnate nella costruzione dell'osso abbiamo visto come il processo sia ben distinto dai meccanismi di formazione degli altri connettivi ma questo è solo l'inizio la seconda ancora più significativa differenza rispetto agli altri connettivi è che l'osso possiede un meccanismo di autodistruzione finemente controllata il cosiddetto riassorbimento dell'osso le cellule specificamente dedicate alla distruzione della matrice solida del tessuto si chiamano osteoclasti come vedremo la presenza di due sistemi complementari deposizione da parte degli osteoblasti riassorbimento da parte degli ostoclasti è di fondamentale importanza nella fisiologia dell'osso in tutte le sue fasi a partire dall'iniziale formazione in età embrionale e per tutto l'arco della vita ma andiamo con ordine concentriamo l'attenzione adesso sull'osteoclasto in questa schema sono riproposti diversi elementi che abbiamo già affrontato allora gli ormai familiari osteoblasti epitelioide che depositano osteoide e più sotto la matrice mineralizzata con osteociti accolti nelle rispettive lacune ecco invece l'osteoclasto che è un po il protagonista di questo schema la cellula è molto voluminosa e presenta numerosi nuclei come nell'osteoblasto anche qui la porzione di citoplasma più prossima alla superficie dell'osso rappresenta la zona attiva della cellula in particolare la membrana si presenta arruffata cioè con numerose increspature invaginazioni questo disegno in realtà non rende l'idea guardate il profilo tormentato di una vera membrana di osteoclasto al microscopio elettronico a trasmissione tra l'orletto arruffato e l'osso è possibile osservare un abballamento vuoto che si chiama lacuna di hauship è facile intuire che tale lacuna è il risultato della erosione dell'osso appena operata da questo osteoclasto nei preparati istologici non è facile osservare l'osteoclasto così ben disegnato ve ne faccio vedere qualcuno qui vedete un voluminoso osteoclasto tipicamente dotato di numerosi nuclei la plurinuclearità degli osteoclasti è dovuta al fatto che queste cellule sono sincizi a loro volta formati a partire da precursori mononucleati questa osservazione introduce il tema della provenienza dell'osteoclasto perché mentre gli osteoblasti si differenziano a partire da cellule mesenchimali presenti nel tessuto adiacente all'osso che si sta formando gli osteoclasti provengono da tessuto emopoietico e fanno parte della stessa famiglia a cui appartengono i macrofagi ecco un'immagine che trovo di grande effetto qui vediamo una superficie di osso con un singolo osteoclasto evidentemente impegnato nella distruzione della matrice sottostante è altrettanto evidente che la cellula avanza lungo la superficie ossea man mano che agisce notate il contorno irregolare tipico delle cellule capaci di movimento ameboide reso possibile da un ricco citoscheletro actomiosinico o actinomiosinico proprio come nei macrofagi il passaggio successivo da affrontare è ovviamente il meccanismo del riassorbimento dell'osso cioè come fanno gli osteoclasti a distruggere questa matrice durissima che gli osteoblasti avevano faticato tanto a produrre la natura ha escogitato una strategia davvero elegante a tal fine perché ricordando l'origine monocito macrofagica non sorprende il fatto che l'osteoclasto sia dotato di un importante comparto lisosomiale in sintesi in prossimità di ciascun nucleo è presente un complesso di goggi da cui derivano vescicole contenenti una varietà di enzimi tra cui spiccano le proteasi acide in grado di distruggere collagene queste sono le tipiche vescicole che contribuiscono a formare i lisosomi ora di norma i lisosomi agiscono in sede intracellulare per digerire materiale sequestrato dall'esterno o di eliminare componenti citoplasmatiche ma in questo caso la digestione deve necessariamente avvenire in sede extracellulare dato che non sarebbe possibile portare osso dentro la cellula e allora l'osteoclasto ha in un certo senso ribaltato la frittata trasformando lo spazio extracellulare come in un grande lisosoma vediamo come innanzitutto è necessario creare uno spazio protetto sigillato rispetto al resto dei tessuti circostanti e questo si ottiene grazie a proteine di adesione tra il plasma lemma e la superficie ossea qui sono rappresentate nei due punti diametralmente opposti ma dovete immaginare un simile contatto lungo tutto il contorno della cellula a questo punto è possibile secerne la proteasi in questo spazio confinato per iniziare ad attaccare il collagene della matrice ossea come ricorderete però gli enzimi lisosomiali sono attivi solo in ambiente acido quindi per innescare la lisi è necessario abbassare il ph in sede extracellulare questo è reso possibile dall'azione di pompe protoniche attive a cavallo di questa porzione di membrana per inciso vi faccio notare che la notevole estensione della membrana dovuta a queste caratteristiche increspature insieme agli abbondanti mitocondri che qui non ho presentato sono tratti tipici di cellule impegnate in intensi cambi ionici altri esempi famosi sono le cellule del tubulo renale o anche i dotti escretori delle cellule salivari allora l'acidificazione del fluido extracellulare crea una condizione doppiamente favorevole perché si attivano le idrolasi che iniziano quindi a digerire le fibrili di collagene e al contempo l'acido cloridrico provoca la dissoluzione della componente minerale della matrice la progressiva erosione dell'osso porta alla formazione della caratteristica lacuna di hauship che evidentemente contiene detriti come frammenti di collagene asportati dall'osso questi residui sembrano essere allontanati dall'acuna tramite endocitosi seguita dal trasferimento dell'endosoma sul versante opposto dell'osteoclasto e poi infine dall'esocitosi io ho descritto l'azione degli osteoblasti e degli osteoclasti separatamente ma in realtà questi due tipi cellulari lavorano di concerto queste immagini riassume il tipico rapporto tra i due tipi cellulari con gli osteoclasti che creano un fronte di erosione subito seguiti da osteoblasti che depositano nuovo osso è un meccanismo che mi ricorda un po un cantiere stradale dove ci sono questi macchinari che sono impegnati prima nella rimozione del vecchio asfalto e poi seguiti da altre macchine che depositano un nuovo strato di asfalto possiamo ora passare al secondo punto del tema dell'osteogenesi nella iniziale descrizione dell'osso maturo ho più volte insistito sulla sua organizzazione lamellare questa mostrata in questa animazione devo però raggiungere che l'osso neoformato non è lamellare cioè il collagene si presenta piuttosto a fibre intrecciate come in un connettivo irregolare ecco un efficace confronto tra un preparato di osso primario immaturo a fibre intrecciate e un osso secondario maturo lamellare ora in questa sede non entro nel dettaglio la descrizione dei meccanismi di trasformazione può essere piuttosto complicata mi limito qui a utilizzare questo schema per raccontare in modo più suggestivo che accurato l'andamento del processo allora laddove in un primo momento il collagene si organizza un po alla rinfusa come per stabilire il più presto possibile le fondamenta di un tessuto rigido gli osteoclasti intervengono a erodere rapidamente questo tessuto iniziale subito seguiti da osteoblasti che ne depositano nuovi strati e a ogni ciclo di riassorbimento e nuova deposizione il collagene assume progressivamente un grado di maggiore ordine fino a raggiungere l'aspetto maturo di questa immagine ecco un esempio di osso immaturo che prima poi sarà trasformato in osso lamellare a questo momento ho affrontato lo sviluppo dell'osso concentrando l'attenzione sulle singole cellule e sulla matrice circostante ma è anche necessario sapere che le ossa del nostro scheletro si formano in modi diversi in altre parole è giunto il momento di passare dalla descrizione delle mansioni dei diversi protagonisti del tessuto come questi operai specializzati a come si formano le ossa del nostro corpo secondo quali tempi modalità come si costruisce un edificio semplificando la maggior parte delle nostre ossa si forma per ossificazione indiretta o endocondrale cioè a partire da uno stampo di cartilagine le due principali modalità di sviluppo delle ossa possono essere così descritte si parte sempre e comunque dal tessuto mesenchimale come quello che vedete sullo sfondo ma in un caso l'osso si forma direttamente a partire dal mesenchima e in tal caso si parla di ossificazione diretta o intramembranosa nell'ossificazione indiretta invece dal mesenchima origina inizialmente un modello uno stampo cartilagineo che successivamente viene sostituito da tessuto osseo questa è un'immagine che vi avevo già mostrato e si dà il caso che questo sia un tipico esempio di ossificazione diretta o intramembranosa ripeto ancora questi osteoblasti si sono differenziati a partire dalle cellule mesenchimali e sono attivamente impegnati nella segrezione di osteoide dando luogo alla formazione iniziale di questi piccoli frammenti accuminati queste piccole spiccole osse per seguire l'andamento delle fasi successive faccio ricorso a un disegno cioè da questa fase iniziale di formazione della primissima spiccola di osso primitivo il fenomeno si estende rapidamente nello spazio per continua aggiunta di osso lascio a voi il compito di guardare con calma gli schemi e ritrovare tutti i principali protagonisti che ho già presentato ripeto che con il passare del tempo questo osso primario cioè a fibre intrecciate lascerà il posto a osso lamellare grazie all'azione cooperativa e coordinata di osteoclasti e osteoblasti come preannunciato il meccanismo più frequente di sviluppo delle nostre ossa è basato sulla progressiva sostituzione con osso di un iniziale modello fatto di cartilagine ialina in questi disegni lo scheletro cartilagineo è rappresentato in celeste nello schema di sinistra vediamo che l'osso ha già parzialmente soppiantato la cartilagine guardate per esempio le diafisi di femore e di omero che sono già ossificate nel frattempo vi faccio notare anche che le ossa della volta cranica sono escluse dal passaggio attraverso la cartilagine più tardi più o meno all'epoca della nascita la proporzione di cartilagine nella composizione dello schermo è diminuita moltissimo ma non è scomparsa anzi la cartilagine continua a svolgere un importantissimo ruolo nell'accrescimento corporeo postnatale come vedremo e anzi per male nell'adulto al livello delle articolazioni come nel caso di questi dischi intervertebrali questo schema riassume l'intero percorso di sviluppo di un osso lungo tipico esempio di ossificazione endocondrale il meccanismo è complesso lo tratterò in sede separata qui mi limito a dire che la forma iniziale dell'osso è definita dal modello cartilagineo rappresentato in celeste che prepara attivamente il terreno per il successivo intervento delle cellule dell'osso sia osteoblasti che osteoclasti come sempre col passare del tempo la cartilagine viene progressivamente eliminata e sostituita con osso qui in beige attenzione perché in molte ossa il processo di ossificazione endocondrale continua per molti anni dopo la nascita è il principale meccanismo alla base della crescita in altezza del corpo umano nel caso particolare di questo osso ungo osservate le cartilagini che permangono a lungo nel punto di incontro tra diafisi ed epifisi in un certo senso si può dire che la cartilagine cerca di sfuggire all'inseguimento dell'osso crescendoti spessore ma l'osso in calza e alla fine riassorbe completamente la cartilagine che si chiama di coniugazione notate anche però che uno strato di cartilagine permane indefinitamente sulle superfici articolari e naturalmente è un bene che sia così per la fisiologia delle articolazioni per non lasciarvi completamente a digiuno di immagini istologiche sulla ossificazione endocondrale ve ne faccio vedere una che forse vi fa capire per quale motivo preferisco trattare il dettaglio del tema a parte qui sono visibili diversi passaggi della trasformazione del cartilagine osso ma non tutti ce ne sono altri insomma è un quadro davvero un po complicato l'unica suggestione che vi lascio è che la cartilagine qui in alto sta come scappando per così dire allungandosi verso l'alto ma viene parzialmente distrutta e invasa dal mesenchima che fa come da apripista per le fasi iniziali dell'ossificazione anche per quanto riguarda l'ultimo tema in programma il limito a una sintesi molto rapida entrò in maggiore dettaglio in un video a parte il punto essenziale da comprendere è che l'osso si rinnova e si modifica per tutto l'arco della vita adattandosi non solo la crescita corporea ma anche a cambiamenti nella postura nelle attività fisiche e in una varietà di altre condizioni incluse certe patologie anche nel soggetto adulto il meccanismo del rimodellamento osseo è basato sulle proprietà complementari di osteoclasti e osteoblasti un buon esempio concreto in tal senso è rappresentato dal fenomeno che segue l'applicazione di un apparecchio ortodontico che riesce a riallineare i denti nelle arcate semplicemente applicando sui denti stessi una pressione costante e prolungata in una certa direzione perché settimana dopo settimana mese dopo mese l'osso alveolare che l'osso che accoglie le radici dei denti si modifica fino ad assumere la forma desiderata attenzione però perché queste modifiche non sono dovute a una deformazione passiva del tessuto in altre parole la plasticità dell'osso non è come quella della plastilina l'osso non perde mai la sua durezza durante il processo quello che in realtà succede che a livello microscopico osteoclasti e osteoblasti sono in piena attività e rispondono alle forze esterne togliendo e aggiungendo osso in modo da adattare la forma del tessuto alla nuova situazione in realtà il rimodellamento avviene continuamente anche in osso non soggetti a particolari cambiamenti nelle forze che gravano su di esse qui per esempio faccio un rapido cenno a un tema che riprenderò in seguito in maggiore dettaglio qui sopra vedete un osteone ben formato mentre a destra c'è un'ampia cavità e questa cavità è stata recentemente scavata dall'attività di osteoclasti nonostante gli artefatti di preparazione qui sono visibili lungo la superficie di questa cavità alcuni osteoblasti impegnati nella deposizione di nuove lamelle osse dall'esterno verso l'interno al termine del processo qui ci sarà un nuovo osteone con un canale di Havers al centro ma prima o poi il fenomeno si ripeterà in una zona diversa a partire dalla creazione di una nuova cavità che servirà da stampo per un nuovo osteone per concludere ho insistito più volte sul fatto che questi e queste cellule mantengono costantemente un contatto con le cellule presenti nelle alcune vicine oggi si tende a considerare insieme la rete degli osteociti come fondamentale nel regolare il ritmo di riassorbimento di osso quindi di produzione di un nuovo osso e la direzione in cui deve avvenire la produzione di questo nuovo osso quindi per esempio quale dovrà essere l'orientamento di un certo osteone dove è conveniente che se ne faccia uno nuovo dove è conveniente riassorbire vecchi osso per produrne di nuovo